Dalle 7 di questa mattina traffico bloccato in entrambe le direzioni e vigili del fuoco in azione sulla A1 nel tratto Lombardo tra i caselli di Lodi e Melegnano. Un'autocisterna carica di rifiuti farmaceutici che procedeva verso Milano si è ribaltata e ha preso fuoco, invadendo anche parte della corsia di marcia opposta. Nell'incidente avvenuto al chilometro 21 è rimasto ferito il conducente dell'autocisterna. Domate le fiamme sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto da parte della polizia stradale che ha provveduto a gestire le lunghe code in entrambe le direzioni e a incanalare il traffico su direttrici alternative per Milano e per Bologna. Grazie. 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 Grazie.